Benvenuti ragazzi nel mio nuovissimo video E come vedete Ah misclick Perché abbiamo questo dettaplano A casuale Perché oggi Come avrete letto dal titolo Faremo la dettaplano challenge Finalmente la voglio fare Da un botto di tempo Finalmente ho abbastanza Così Questi qua non contano che sono Oppure si contano e sono blu E' peccato ci abbiamo solo Un leggendario però Tanto non ci riuscirà di sicuro Prende c'è un pochino più facile Speriamo Aspettate un secondo Questo qua non è gratis Questo qua non è gratis Ecco Dobbiamo arrivare al livello C'è un quota 3 Poi avremo il battle pass Ok 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 Dico davvero Ok Non so Ragazzi ti vogliamo dire Che dettaplano ci abbiamo Quella dettaplano Mi sembra Blu Dovrebbe essere blu Ma dove cavolo l'ha preso Sto qua Non ci riuscirò qui la skin Blu Solo armi blu Granate Granate sono le armi blu Non ci sono le armi blu Ora facciamo con le granate Andiamo veloci Senza che nessuno ci veda È un po' davvero pena questa Che cosa deve fare Che un armi blu Un'arma blu Era ora Era ora Mi era che schifo Ma mi era o sono cambiato Solo armi blu Solo armi blu Un cazzo Ok Mi sembra Amore Ma qua mi ha detto Non ce n'è raggi Ai credito Anche Mi sembra Non ce n'è raggi Non ce n'è raggi Dicet Non ce n'è raggi Non ce n'è raggi ok scappiamo poco ma sicuro da per scappare e là c'è anche un altro nemico che fortuna e andato risparo un'altra posione risparo no raga davvero se non troviamo un altro posione e la cacchina brutta ora andiamo di piccoli raga dovevo andare di piccone un'altra mia possibilità di vittoria è poi anche la cacchina bruttissima blu non so proprio cosa dire non troviamo una roba di piccone nella cacchina che pizza però è cosa con nessuno la cacchina brutta non si è parlato ho aperto bocca e io subito sento un'esplosione non è mia solita fortuna e dove staranno mai un'esplosione 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 la cacchina brutta ora dobbiamo giocare dobbiamo giocare dobbiamo giocarcela di cucine salto tra le pozioni da 50 tra le pozioni da 50 ma c'è ragazzi sì sì cecchino cecchino ragazzi cecchino dopo un botto di tempo qualcuno ci sto sperando ma chi non ho ancora capito dove dovrebbe adesso c'è la cacchina la cacchina la cacchina la cacchina ma come faccio a non prendere no raga no qualcosa non va no ormigia allora allora io capisco che soldi sazione tui e bravo Penso che per il suo attore Sì, sì, sì. a 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 no no è stato ucciso ciao amico a 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 penso che per questo video sia tutto la prossima